Sotto accusa anche il noto avvocato catanzarese Eugenio Battaglia, finito nel mirino della procura capitolina per lo sproprio di un terreno da parte dell'ANAS. Un accordo corruttivo di 50.000 euro materialmente effettuato dal legale per conto dei proprietari del terreno identificati nei fratelli Giuseppe Saverio Silvagni, anch'essi di origini calabresi, ma da tempo residenti a Roma, destinatari di un avviso di garanzia. Battaglia ha difeso l'imprenditore Lametino Salvatore Mazzei, accusato di rapporti con l'Andrangheta, e assiste la famiglia dell'avvocato Torquato Ciriaco, ucciso Lamezze in un agguato di mafia. Di recente è stato nominato difensore dell'ex poliziotto Giovanni Aiello, il presunto faccia di mostro, già indagato dalla procura di Caltanissetta per i fatti inerenti la stagione stragista inaugurata da Cosa Nostra a Palermo negli anni 90. Grazie a tutti.